Wabalabadabadab e bentornati su Namamamazzo, bentornati nella rubrica film in uscita. Oggi vorrei parlare con voi di un film tutto italiano che è uscito il 12 agosto nelle sale cinematografiche. Vi consiglio di non sottovalutarlo, sto parlando di Il Mostro della Cripta. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che seguono uno stranissimo culto e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo film e di questo video. Vi ricordo sempre che qui davanti tutti i miei social che vedete passare in sovraimpressione li potete trovare anche qui sotto in descrizione come link cliccabili, quindi iscrivetevi. Il Mostro della Cripta, film del 2021, presentato anche al Locarno Film Festival, uscito nelle sale il 12 agosto 2021 per la regia di Daniele Misischia e prodotto dai manetti. i manetti bros, vi ricordo che saranno anche i registi del Diabolic che uscirà a fine anno. Daniele Misischia ha lavorato spesso con i manetti bros, è stato spesso a capo della seconda unità di regia dei film dei manetti bros, qui ha un film tutto suo e lui ha già girato. Per esempio, di recente, la web series che è diventata un film, un mediometraccio che trovate su Amazon Prime Video dal titolo Matilda, con l'accento sulla A, con protagonista Arianna Bonardi che è attrice ma che potete trovare anche su YouTube al suo canale, ora omonimo, Arianna Bonardi o The Blair Witch dove parla spesso di cinema ma parla anche di esoterismo, di streghe, di cose un po' occulte. È un canale davvero interessante ed è davvero fantastico. Potreste anche averla vista in alcuni video in coppia con Violetta Rocks, per esempio. E anche in questo film fa una piccola parte, molto nelle sue corde, è davvero interessante. Se non avete visto il trailer di questo film, ve lo metto qui sotto così vi fate un'idea di quello di cui sto parlando dal trailer si può evincere una commedia horror anche per la presenza del personaggio di Lillo che recentemente abbiamo visto in LOL Chi ride fuori ma Lillo è in giro da un sacco di tempo con il suo umorismo particolarissimo e surreale. In questo film, nonostante comunque la presenza di Lillo possa far pensare più a una parodia di un film horror è un film horror a tutti gli effetti, è una comedy horror a tutti gli effetti c'è molto Splatter, più di quello che mi aspettavo. Fortunatamente ho appena visto The Suicide Squad e quindi il mio livello di sopportazione dello Splatter era già abbastanza tarato. Il film è ambientato negli anni 80, più precisamente nell'88 questo per seguire un pochino il filone nostalgico che hanno iniziato gli americani per cavalcare un po' il successo di Stranger Things e di tutti i reboot di saghe famosissime negli anni 80 non solo horror ma anche, anzi principalmente, fantasy e quindi anche noi italiani abbiamo seguito questo carro dei vincitori ci siamo saliti anche noi ma in questo film, gli anni 80, hanno un sapore tutto nostrano che devo dire ho apprezzato di più che non neanche negli esperimenti nostalgia americani. Il film cita tantissimo i B-movie horror anni 80 ma anche film di alto livello sempre anni 80 e il regista sa sfruttare anche questo effetto citazionistico per l'utilizzo saggio degli effetti speciali laddove un effetto speciale può sembrare non convincente è perché il regista ha voluto usare un effetto tarantiniano laddove il sangue è palesemente finto non tanto per mancanza appunto di budget, di mezzi ma proprio per citare quei film che avevano mancanza di budget e di mezzi così come Tarantino in Kill Bill dove gli schizzi di sangue sono delle fontane rosse ha citato i film di arti marziali degli anni 60-70 anche qua Misischia con le sue scene splatter cita questi film horror fantastica anche una citazione a Shining fatemi sapere se l'avete scovata e ovviamente una piccolissima citazione nel finale a Ghostbusters il protagonista di questo film è un ragazzino Joe Spada che è il classico sfigato anni 80 ovvero che non ascolta la musica trendy che va in quel momento si veste con il suo chiodo di pelle legge i suoi fumetti sfigatissimi come per esempio la squadra 666 di Busirivici che è appunto il personaggio che interpreta Lillo e è attirato da tutto ciò che è horror al punto di girare un film amatoriale appunto a temi horror proprio per passare la noia in questo paesino dell'Emilia Romagna a Bobbio e credo anche perché è uno dei pochi mezzi che ha per poter parlare con la sua ragazza dei sogni che è Vanessa interpretata da Amanda Campana che magari avete visto in Summertime che è la protagonista del film amatoriale di Joe perché è una fantastica Scream Queen Amanda, scusate, Vanessa interpreta una fantastica Scream Queen e sarà anche una Scream Queen nella vita reale quando gli eventi di Bobbio inizieranno a prendere una brutta piega il personaggio di Vanessa è la punta di diamante dal punto di vista estetico che ti fa subito balzare all'occhio come il look anni 80 è curato alla perfezione il look di Vanessa sprizza anni 80 da tutti i pori è impossibile non guardarla quando è sulla scena come una piramide dopo di lei troviamo anche il look di Joe il look di Milva e di tutti gli altri comprimari che proprio sono intrisi negli anni 80 hanno preso un secchio degli anni 80 hanno preso gli attori e li hanno inzuppati dentro e hanno questo look fantastico che richiama a anni che io ho vissuto solo per pochissimo ero piccolo ma diciamo l'ho vissuto attraverso i miei fratelli comunque sono un periodo storico che è subito inquadrabile dal look e qui hanno fatto davvero centro se non avete ancora visto questo film vi consiglio di stoppare questo video e correre al cinema e andarlo a vedere prima che chiudano di nuovo i cinema a avere qualche strano virus zombie che potrebbe esplodere di nuovo se invece avete visto il film potete continuare questo video perché andiamo nella parte spoiler tra 3, 2, 1 non potevo parlare nella parte non spoiler di altri personaggi presenti nel film che sono i Valmont i Valmont sono i veri cattivi di questo film oltre al mostro della cripta e rappresentano un po' quelle persone emarginate nei paesi di provincia perché sono strane sono più strane del normale sono più strane di Joe Spada che è un po' uno stramboide che si diverte a fare film a leggere i fumetti questi sono strani inquietanti e li lasciano tutti in disparte all'inizio pensavo che fossero quel tipo di persone stile il vecchio che spalla la neve di Mammo Perso l'Aereo che sembrano i cattivi del film ma poi si rivelano essere dei validi aiutanti contro la minaccia che arriva in Mammo Perso l'Aereo sono i due ladri qui invece no i Valmont il vecchio dei Valmont è davvero cattivo anzi è più cattivo di quello che potessi mai immaginare ed ha una famiglia stile famiglia Adams anzi stile famiglia tipica dei film horror dove tutta la famiglia si diverte ad ammazzare tutte le persone che gli passano davanti e a trucidarle solo per divertimento che per giunta adora una strana creatura venuta da lontano questa creatura appunto è il mostro della cripta che unisce diciamo il paranormale quindi i mostri le catacombe le cripte al paranormale quello più che rivolto alle stelle quindi abbiamo un alieno di 3.000 4.000 anni fa che è venuto sulla terra ed è stato imprigionato in questa cripta questi Valmont adorano come una divinità questo alieno e danno in sacrificio per farlo ritornare prima in vigore e poi per chiamare tutta la sua stirpe sulla terra gli danno in sacrificio delle vittime la scena con la ragazza vittima con tutta la tutte le budella dei fori mi ha fatto davvero impressione specie perché era ancora viva e anche questa è un'altra fantastica citazione a quei film horror dove lo splatter è all'ordine del giorno e dove appunto il rispetto diciamo la sacralità del corpo umano è buttata alle ortiche con queste scene dove è tutto di fuori e la persona sta ancora soffrendo ho parlato all'inizio degli effetti speciali volutamente kitsch che richiamano un po' un certo tipo di film horror anni 80 ecco hanno bilanciato benissimo quegli effetti speciali con l'effetto speciale del mostro che invece è fatto davvero bene presumo sia un animatronics penso ci sia della cgi ma molto poca molto dosata è giusto che noi italiani che magari non abbiamo grossi mezzi a livello di cgi è una grossa esperienza a livello di cgi la dosiamo tantissimo e la usiamo quando non abbiamo altra scelta è giusto sfruttare ancora magari gli effetti speciali nella scena come appunto il make up che abbiamo visto sia per il mostro ma anche appunto per il personaggio che interpreta Arianna Bonardi che è una dei figli dei Valmont che è cattiva esattamente come gli altri che fa una bruttissima fine dico un personaggio in character scusate un personaggio nelle corde tantissimo di Arianna Bonardi perché appunto è sempre un personaggio molto gotico molto alla mercoledì come lo interpreta lei molto più cattivo ovviamente che fa la bruttissima fine di venire incendiata viva da Vanessa dalla screen queen di cui parlavo prima un tocco di classe il fatto che potevano benissimo non far vedere la scena successiva avrebbero risparmiato e invece hanno mostrato Arianna dico Arianna scusate hanno mostrato la figlia dei Valmont ancora viva totalmente bruciata che cercava di raggiungere il fratello pazzo quello poliziotto se così vogliamo dire ecco questa scena aggiunge un non so che di ancora più inquietante vedere una persona così cattiva dentro che è diventata così brutta fuori e che allo stesso tempo sta soffrendo tantissimo per quello che ha subito però poi vediamo che poco dopo nella scena successiva è bella che stecchita mi tengo per la fine due personaggi menzione d'onore uno dei figli dei Valmont quello che appunto è il più sanguinario di tutti a cui gli sfugge un po' la mano diciamo che si mette ad ammazzare tutto il paese di Bobbio regalandoci le scene le scene più splatter in sua presenza il tutto contornato da un accento tipicamente romagnolo che rende l'avvenimento tutte queste scene splatter che vediamo le rende cosino strane così vere che ci sembra di vedere un documentario su qualche mostro che ha veramente vissuto quei paesini non ci sembra di vedere un film quindi una scelta stilistica davvero azzeccata per farci sentire questa cosa ancora più più vicina Dulcis in fundo volevo parlare appunto di Lillo che invece interpreta un personaggio che è un po' fuori dalle sue corde perché non è il Lillo di LOL non è il Lillo de Sol Lillo è un Lillo è un Busi Rivici è un fumettista che fondamentalmente non vuole che gli si rompano i coglioni quindi è un cinico è una persona delusa dalla vita non gliene frega niente di nessuno gli interessa solo di scrivere i suoi fumetti copia tranquillamente tutto quello che gli capita tra le mani per portare a casa il lavoro prima perché non gliene frega niente lui vuole solo campare tirare a campare mangiare il maialetto non gliene frega niente incappa in Giospada che già conosce per via epistolare perché Giospada gli scrive un sacco di lettere essendo un grande fan di Busi Rivici del suo lavoro alla squadra 666 dove appunto vengono narrate le gesta di Bobbio di quello che è successo a Bobbio con il mostro della cripta perché appunto Busi Rivici scopiazza anche da da libri antichi ed è bello vedere questo rapporto da un lato quasi paterno perché comunque il personaggio di Lillo pare quasi affezionarsi a Joe ma allo stesso tempo è perennemente scazzato lui non vuole assolutamente trovarsi lì non vuole trovarsi assolutamente in quella situazione ecco mano a mano che la narrazione va avanti il personaggio di Lillo diventa da cinico disinteressato e insofferente diventa mano a mano la linea comica che tutti conosciamo quindi una persona che fondamentalmente ha paura e vuole scappare e prima ho parlato anche di Tarantino e credo che abbia anche volutamente citato Kill Bill nella scena dove la stramba Fabienne la nuora dei Valmont affronta con con la katana che era dell'amico di Joe che è stato ucciso sempre dal poliziotto affronta la sua ex suocera che invece ha in mano credo un macete in questo scontro mortale dove nessuno sopravvive un po' sopra le righe anche per questo film però comunque mi è piaciuto bene ragazzi che dire io vi consiglio assolutamente appunto di vedere questo film se invece siete arrivati fino a qua e perché lo avete già visto vi consiglio di consigliarlo alle altre persone perché appunto è un film italiano è una piccola chicca del panorama cinematografico italiano e secondo me potrebbe diventare tra qualche anno un piccolo cult un po' come anni addietro è stato della morte dell'amore ovviamente il genere non è proprio lo stesso lo so però sto dicendo che nonostante sia un film di genere come lo chiamano potrebbe appunto diventare un cult diffidati da quelli che dicono ah ma è un film italiano la solita merda ma perché noi italiani facciamo sempre film di merda ecco tutti questi questi leoni da tastiera che hanno visto un'immagine un mezzo trailer e hanno commentato subito questa cosa senza nemmeno aver visto il film senza nemmeno aver capito chi è il regista chi sono i produttori da dove viene questo lavoro probabilmente manco conoscono i manetti bros e il loro lavoro ecco diffidate da queste voci non voci e andatelo a vedere perché merita merita molto se seguite il mio canale dove parlo spesso di Dylan Dog sicuramente potrebbe piacervi dove parlo di Ghostbuster sicuramente potrebbe piacervi anche se non vi piace per forza il film Morro Splatter ma avete magari visto Suicide Squad potrebbe piacervi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti